Che impressione ha di Ecomondo? Devo dire che per vari motivi ho un'impressione molto positiva. Innanzitutto l'argomento è un'attività molto importante, è necessario sempre più in questa fase del pianeta. Ho notato che i partecipanti sono molto donne, anche molto giovani, tutti parlano inglese. Trovo che tutti questi sono segnali molto positivi, perché nel momento in cui c'è una crisi in Italia, nel momento in cui pochi sanno l'inglese relativamente, in cui donne vengono spesso discriminate, di vedere in un campo così importante come Ecomondo che ci sono anche molte donne che partecipano, persone giovani, italiane, che parlano bene inglese, la trovano una cosa molto positiva. Quindi questa è mia prima impressione molto positiva, poi ascolterò naturalmente i loro interventi.